È tutto sbagliato! Ehi, che ci fai qui, Sammy? Mi sono lasciato trasportare e ho disegnato qualcosa di strano, ma sto cercando di capire. E se lo giriamo così? Eureka, sei un genio! Grazie per il complimento, Sammy. Allora, che sarebbe? Cosa intendi? Una nuova creazione, ovviamente. Su, vieni! Ciao, ragazzi! Oggi daremo vita alla fantasia di Sammy e faremo... Un'incredibile pista per le biglie di cartone in stile Among Us! Ehi, sognatore ad occhi aperti! Mi hai portato soltanto un pezzo! Oh no! Oh no! Mi sono dimenticato! Che succede adesso? Tranquillo! Faremo diversamente! Amo la magia artigianale! Ragazzi, attenti con la colla a caldo, mi raccomando! Le incolliamo insieme... Ci siamo! E adesso aggiungiamo il terzo, così. Sammy, il righello! Wow, Sue! Sono un po' cresciuto! Ben fatto! Presto sarai più alto di me! Torniamo alla pista. Segniamo mezzo centimetro su ogni lato... E tracciamo una linea, così. Tagliamo l'eccesso. Attenti con gli strumenti affilati, ragazzi! Un altro taglio. Questo è il gradino della pista! Adesso copriamo i lati. Ci serve un pezzo di cartone da avvolgere intorno al pezzo in questo modo. Così! La prima parte della scala è pronta. Adesso dobbiamo... Fare questi, Sue? Beh, li ho già fatti io. Sam, sei il maestro del cartone! Dai un'occhiata a questi due cerchi di un centimetro e mezzo. Grazie, è quello che ci serviva! Facciamone un pezzo solo. Un po' di colla. E così. Rimane soltanto una cosa. Proprio così. Che cosa ci manca, Sue? Non riesco a pensare a nulla! Guarda, Sammy! Adesso è pronto! Facciamo altri di questi. Voilà! Poi li colleghiamo usando un bastoncino. Questo meccanismo farà muovere tutta la scala. Ma dobbiamo lavorarci ancora un po'. Un pezzo rettangolare va su questo lato. Ecco. Ah, aspetta! Dovrebbe esserci un altro pezzo qui. Sammy, pensi che me ne sia dimenticata? È tutto sotto controllo, sai? Copriamo tutto con i muri adesso. Così. La 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 la! Oh no! Mi dispiace, Sio non l'ho fatta apposta. Stai tranquillo, Sammy. Questa ci serve per la dimostrazione. Sei pronto? Sì, sì! Fammi vedere! Guarda! Tac, 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 e tac! Ragazzi, questa è soltanto la prima parte. Date un mi piace se siete contenti. Le scale mobili andranno qui. Ecco. Siete pronti per la parte successiva? Allora andiamo! Cosa faremo adesso, Sio? Sammy, puoi dire agli spettatori perché questa pista è in stile Among Us? Perché? Beh, sarà una vera stazione spaziale. E i personaggi del gioco vivono su una stazione come questa. Bravissimo, vedo che ci hai ragionato. Per favore, mi porti quel pezzo? Mi hai chiesto di accorciarlo, la biglia cadrà da qui? Avremo un meccanismo di smistamento su questo lato. Ecco perché la struttura è diversa. E abbiamo quasi fatto! Solo pochi pezzi. Dunque la creazione sarà fatta di cartone e filo, adesso capisco. Rimuoviamo l'eccesso così. Attenzione con queste, ragazzi. Proviamolo subito, Sio! Sì, il test è stato un successo. Sio, lo terrò io. Non durerà a lungo, abbiamo bisogno di qualcosa di più robusto. Faremo uno scivolo per le biglie, Sammy. Questo supporterà anche l'intera struttura. Assemblicus magicus! Ho sempre voluto farlo. Adesso creiamo una colonna di supporto. Un po' di colla così. E li attacchiamo. Più a sinistra, a destra, più in basso. Sì, fatto! Adesso incolliamo gli scivoli. Assicuratevi che le aperture non siano vicine, ragazzi. Wow, questo scivolo è così bello! Mi piacerebbe andarci. Ma ho paura di restare bloccato. C'è un buco qui. Sammy, è tutto sotto controllo. Adesso lo testiamo, vai! Perfetto, sta andando tutto secondo i piani. E adesso, ragazzi, facciamo uno scivolo a spirale. Facciamolo molto a spirale. Oh, nessun problema, vedrai. Devo soltanto fare questo prima. Ah, e sì, o sei sicura di aver incollato correttamente gli anelli? Certo, come dovrebbe essere. Adesso è proprio a spirale, Sammy. Adesso capisco, ci serve un punto d'accesso. Fantastico! Quello di cui abbiamo bisogno. Colleghiamo i pezzi così. Penso che servano alcuni muri qui. Buona idea, facciamoli. Un altro giro. Mi vengono le vertigini. Ah, le vertigini! Fiu, fatto, Sammy. Facciamo di nuovo il test con la biglia. Yuhu, ha funzionato! Meraviglioso! Adesso infiliamo l'asse portante. Wow, tre interi livelli, lo adoro. Colleghiamolo alla pista. Subito! Ci servono solo uno, due, fatto! Sio, questo pezzo è molto strano. A che serve? Questo sarà uno dei percorsi finali. Ci sono diverse curve. Mettiamo un muretto qui. Sio, quanto tempo ancora? Proviamolo! Stupendo! Ma la biglia può ancora cadere dal percorso. Dobbiamo rimediare. Giusto, Sammy. Mettiamo un muro qui. E il secondo deve essere piegato e inserito vicino questa curva, così. Date un mi piace, ragazzi. Supportiamo la nostra Sio. Sammy, mi stai facendo arrossire. E devo concentrarmi. Su. Penso che sia fatta. Proviamola. Accidenti, funziona! Abbiamo fatto? La pista avrà un meccanismo nascosto che dobbiamo ancora realizzare. Oh, ecco perché abbiamo bisogno di queste ruote. Stavo per buttarle. Sammy, non abbiamo mai parti in eccesso. Tutto serve a qualcosa. Ci serve questo stuzzicadenti adesso. Così. E un altro. Sio, perché ne abbiamo bisogno? Attento, Sammy. Non ti ho avvertito in tempo, scusa. Per fortuna sono fatti di cartone. E dio di slime. Mettiamole a posto in modo che nessuno inciampi di nuovo. Sio, aiuto, sono rimasto in colla. Sammy, stai fermo un attimo. Ok. Fissiamo il nastro di carta così. E' arrivato il momento di allenarsi, Sio. Ok, Sammy, ma questo ci serve. Lo allunghiamo in questo modo. E adesso copriamo il meccanismo. Così. Non potete filmare! Non potete! Su! Solo voi, ragazzi. E' un segreto. Volete vederlo, ragazzi? Questa è la ruota per avviare il meccanismo. La fissiamo con la colla così. Fatto! Sio, guarda che cosa ho installato. Così le biglie saliranno come una scala mobile. Splendido lavoro, Sammy. Beh, questo somiglia sempre più a un nastro trasportatore, se ci pensi. Ah, e gli astronauti lavoreranno qui? Non vedo l'ora di cominciare con la decorazione. Ed io non vedo l'ora di vedere che cosa farai, Sammy. Ecco perché ti sto aiutando. Ti piacerà. Adesso copriamo il meccanismo sul lato qui. E poi qui in cima. Sammy, mi porti l'ultimo pezzo? Sio, perché ne abbiamo bisogno? Tutti i pezzi sembrano al loro posto. Guiderà le biglie direttamente sulle scale mobili, vedi? Eccoci, Sammy. Passiamo alle decorazioni. Chi pensi sia bravo e chi l'impostore? Mmm, questo. No, questo. Lui è piuttosto sospetto, sì. Hmm, penso tu possa continuare mentre decori, Sammy. Un attimo, Sio. Dai un'occhiata. Stupendo, Sammy. Guardiamo la pista adesso. Gli astronauti sono pronti? Pronti! L'ingegnere di controllo è in posizione? Sì, sì. Allora andiamo! Sì, sì. Ragazzi, vi è piaciuta questa creazione? Dateci un mi piace e iscrivetevi al canale. Sammy, quanto tempo ti serve ancora? La mia mano si sta stancando. Non fermarti, lavoreremo senza interruzioni. Penso che richiederà altro tempo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti